La parola a Paolo Garbarino, rettore dell'Università del Piemonte Orientale e studente di giurisprudenza come tutti noi dell'Università di Torino. Grazie, grazie. Ma desidero portare anche una mia testimonianza personale ma è un felice dovere quello di portare prima di tutto il saluto del mio Ateneo, dell'Università del Piemonte Orientale e sottolineare il legame non solo scientifico ma anche di affetto tra il mio Ateneo e in particolare la sua Facoltà di Scienze Politiche e Norberto Bobbio. Proprio ieri, nell'incontro di Rivalta, Maurilio Guasco ricordava come Bobbio seguisse con particolare attenzione, direi di nuovo con affetto, la nascita e i primi passi dell'Ateneo, della nuova Università, anche per queste sue fortissime radici alessandrine che sono state così bene illustrate nell'incontro di Rivalta di ieri. E questo è uno dei motivi, ovviamente non l'unico, che ha sollecitato poi la Facoltà a intitolare la Biblioteca Interdipartimentale di Scienze Politiche proprio a Norberto Bobbio, dopo che è mancato, ed è anche importante ricordare come un nucleo di studiosi della nostra Facoltà di Scienze Politiche che sia legata più o meno direttamente al suo pensiero. Ricordo, cito tra gli altri, i Revelli che è qui presente, Corrado Malandrino, il preside della Facoltà, che è anche lui qui tra il pubblico, lo stesso Maurilio Guasco. Dunque un legame scientifico, un legame di affetti tra il nuovo Ateneo e Norberto Bobbio. Ma il mio intervento voleva essere un po' anche una testimonianza personale che così intende sottolineare un profilo della biografia culturale di Bobbio, un profilo che si interseca, a mio giudizio, in modo molto significativo con la storia recente della Facoltà giuridica torinese. Dunque sarà un intervento più da giurista che da rettore. Desidero ovviamente parlare soprattutto del Bobbio filosofo del diritto in un'ottica però un po' particolare, nell'ottica di chi, come il sottoscritto, ha iniziato l'università dopo che egli aveva lasciato la cattedra di filosofia del diritto. Dal 1972, poco dopo la creazione della nuova Facoltà di Scienze Politiche, di cui, come noto, era stato il cofondatore con Alessandro Passerendantreve, Bobbio si dedica esclusivamente all'insegnamento della filosofia politica. Gli subentra, sulla cattedra di filosofia del diritto, un suo brillante allievo, Uberto Scarpelli, che dopo qualche anno di magistero torinese si trasferirà a Milano e poi mancherà prematuramente. La cattedra verrà presto sdoppiata. E se non ricordo male, proprio nel 1973, l'anno in cui io iniziai i miei studi universitari, accanto a Scarpelli sarà chiamato Enrico di Robilant, un altro allievo di Bobbio, e qui sottolineo l'apertura culturale del maestro in quanto di Robilant dagli studenti era considerato uno studioso di destra per quel che valgono ora queste distinzioni, che forse andrebbero calate come etichette nella realtà, forse nella cronaca di quei tempi. Il 1972 e il 1973 sono anni cruciali perché segnano uno spartiacque nella formazione dei giuristi torinesi. Bobbio, come detto, lascia nel 1972 l'insegnamento della filosofia del diritto. Nel 1973 muore improvvisamente Giuseppe Grosso, il maestro del mio maestro, un'altra colonna portante dalla facoltà torinese fino a pochi anni prima della stessa vita pubblica della città. Il giovane studente di giurisprudenza si troverà a essere introdotto al sapere giuridico attraverso i due canali tradizionali ma efficacissimi della teoria e della storia, non più direttamente dai due maestri, ma dai loro allievi e studiando sui loro libri. Riandando a quell'anno, ricordo come gli elementi di base del diritto romano li ha presi dalla storia di Grosso, il diritto costituzionale dal manuale di Costantino Mortati, credo tutti e due ormai praticamente quasi improponibile ai nostri studenti per complessità e problematicità delle impostazioni. Quanto alla filosofia del diritto, Uberto Scarpelli consigliava il libro di Alf Ross, Diritto e Giustizia, un libro decisivo nel mio percorso formativo e che mi fece scoprire, tra l'altro, provenendo da un liceo in cui l'insegnamento della filosofia era improntato a un orientamento strettamente metafisico, l'approccio analitico, per così dire laico, al mondo e ai problemi del diritto. Ora, la scelta di Alf Ross appare, a mio giudizio, esemplare per porre in evidenza un aspetto del lavoro scientifico di Bobbio cui non sempre si dà il giusto rilievo. E' noto a tutti che egli è stato il più importante tramite del pensiero kelseniano nella cultura giuridica italiana. Devo a Kelsen, così ricordava Bobbio, l'aver potuto accedere senza sforzo a un sistema compiuto di concetti chiave per la comprensione realistica, non ideologizzata, del diritto distinto dalla sua base sociale e dai valori che di volta in volta lo ispirano. Così osserva, per esempio, Mario Gilosano, l'ultimo suo allievo diretto che insegna filosofia del diritto, tra l'altro nel nostro Ateneo, nel Piemonte Orientale, chiamato da me quando ero preside alla facoltà di giurisprudenza dopo una sua lunga permanenza milanese. Mario Gilosano in questo momento in Brasile, se no sarebbe stato sicuramente qui in quest'Aula. Mario Gilosano osserva che, anche quando negli anni 70 l'interesse di Bobbio si spostò dalla filosofia del diritto alla filosofia politica, egli non si distaccò da Kelsen. Se da un lato il formalismo ascetico del giurista praghese non gli bastava più, dall'altro trovava in lui quella concezione procedurale della democrazia che caratterizza molti suoi scritti politologici successivi. Bobbio non si limita però a Kelsen ed estende il suo interesse ai suoi allievi, agli allievi di Kelsen o ai suoi seguaci più rilevanti, appunto al Frosso, ancora a Herbert Hart, o sul versante contiguo della filosofia analitica di derivazione ostignana, Hoffeld. Questo interesse si manifesta concretamente nelle traduzioni in italiano delle opere sia di Kelsen sia degli autori prima citati, che appaiono per lo più presso le edizioni Einaudi, stante anche i rapporti di stretta collaborazione tra Bobbio e l'editore torinese. Einaudi aveva varato già a partire dal 1939 una collana di cultura giuridica, curata appunto da Bobbio insieme ad Antonio Giolitti, divenuta nel 1945 collana di cultura giuridica e politica. In questa collana appare nel 1952 la prima edizione della Dottrina pura del diritto, nella traduzione di Renato Trevis. In seguito, chiusa questa collana, i testi giuridici proposti da Bobbio troveranno posto nella gloriosa nuova biblioteca scientifica Einaudi. Così, a partire dal 1965, il libro di Alf Ross, ancora di arti il concetto di diritto, la nuova edizione e traduzione, a cura di Lozano, della Dottrina pura del diritto di Kelsen, i concetti giuridici fondamentali di Hoffeld. A me pare rilevantissimo che in tal modo il diritto, sia pure nella sua espressione teorica e non pratica, sia a pieno titolo considerato parte dei saperi contemporanei, accanto all'economia, alla storia, all'antropologia e alla psicologia. Si trattava in effetti, come opportunamente ha ricordato sempre Mario Girosano, che allora lavorava in casa editrice, di una nuova collana che esprimeva una visione unitaria del sapere scientifico, non più filoni corrispondenti alle tradizionali materie, ma un'unica collana aperta alle proposte tanto disciplinari quanto interdisciplinari. E ancora ricorda Lozano che la presenza dei libri giuridici nelle collane Einaudi è dovuta alla presenza di Bobbio. Non che gli Einaudiani fossero per principio contrari ai volumi giuridici, però il diritto era per loro un mondo rispettabile marido, ai margini degli universi più vivi e luminosi della politica, della storia, della filosofia, della letteratura, delle arti. Troppo umanamente impreciso per essere una scienza esatta e troppo tecnicamente rigoroso per essere una scienza umana. Il diritto era oggetto di un'impalpabile diffidenza da parte di tutti, a partire dal principe, cioè dallo stesso Giulio Einaudi. Grazie. Grazie.